È frequentata da 150 studenti che arrivano dalle frazioni di Codiverno e di Pionca alla scuola media di via Campolino. Il comune di Vigonza ha pronto un progetto di restauro da oltre 4 milioni di euro che sarà finanziato con i fondi del PNRR. Abbiamo preparato un progetto per rifare completamente la scuola da diversi punti di vista. A livello strutturale statico, quindi a livello di muratura e proprio di struttura, a livello energetico con l'efficientamento completo che porterà la scuola ad essere ENZEB, quindi a consumo praticamente pari a zero e poi anche all'interno con il rifacimento di tutti gli interni. Dagli amministratori una rassicurazione ai cittadini e alle famiglie. Sarà evitata l'esperienza di far studiare i ragazzi in container finché il cantiere sarà aperto, modalità che si è rivelata fallimentare in passato. Cercheremo assolutamente di trovare soluzioni alternative a queste perché l'esperienza negativa che abbiamo avuto non la vogliamo assolutamente ripetere. Cercheremo tutte quelle che sono le soluzioni alternative appunto al container proprio perché l'anno possa essere vissuto dai ragazzi positivamente. Un'area questa che ospita le scuole dall'infanzia alle medie che sarà ripensata dal comune. Siamo in fase di revisione del PUT, del piano urbano del traffico e del biciplan e quindi tutto il piano delle piste ciclabili e dei collegamenti pedonali. All'interno di questo grande piano che riguarda tutto il comune abbiamo individuato come focus proprio quest'area con gli attraversamenti pedonali in sicurezza da rifare per la comunicazione tra appunto scuola media, scuola elementare e scuola materna.